Siamo rieti di presentarvi Napoli del Cafè Chantal, un viaggio nel passato che è stato tra le atmosfere, i colori e la Napoli di una volta, attraverso macchiette, scenette e momenti musicali che ricordano i tempi del Cafè Chantal e del Varietà. Non mi resta che augurarvi buon divertimento. Siamo rieti di presentarvi Napoli del Cafè Chantal e del Varietà. Ma insomma! Ma quanto siete bella? Ma che volete? Ma siete impazzito? No, un piccolo ciò redato con il cuore. Se avete il coraggio e avete capito, salite qua al posto qui, fateglielo vedere dal vivo. Ce l'avete questo coraggio? un nome bellissimo anche se voglia sono fissati Chissime, ora non c'è, 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 c'è c'è, c'è. Accendolo, anario! Oh, papà, grazie per essere, come ti ho anticipato. E' un'altra cosa, e' un'altra cosa, e' un'altra cosa. Com? Accendolo, anario, a che fa se lo caldano. Scusate, ci stai qualche alledita alla sicurezza, il fuori? E' un'altra cosa, facciatelo fuori, assurisci, il contino, ma c'è, no? Ma perché voi voi volete andare a casa? E' sabato, domani è domenica Foto, 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 foto Volete una foto? Una foto Una foto Una foto Una foto Una foto Una foto Vedi come si prendevano Ho comprato una foto 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 Grazie a tutti.